Sul futuro di Casa Serena, al di là delle intenzioni dichiarate, al di là delle frasi ad effetto, l'amministrazione comunale non sembra avere ancora un'idea chiara. E così torna allo spettro della chiusura di una struttura che alle casse di Palazzo Zanca costa e non poco. Era il 2012 quando l'allora commissario straordinario del comune di Messina, Luigi Croce, di fronte alla difficoltà di provvedere alla messa in sicurezza e al mantenimento del servizio, annunciava alla città l'intenzione di sopprimere la storica casa per anziani. La soluzione poi è stata trovata. Il comune ha speso 900.000 euro per effettuare interventi prescritti dai vigili del fuoco ed il numero degli ospiti è stato limitato a 50. Ma l'assenza di programmazione nel settore del sociale riaccende riflettori sul futuro della struttura di Monte Piselli, nei confronti della quale da tempo è cala del silenzio. E' pur vero che l'assessore Nina Santisi ha detto che, pensando a Casa Serena, immagina un sistema abitativo che sia alternativo alla struttura rigida della casa di riposo. Ma questo cosa significa? E soprattutto quale progetto si nasconde, tiro le parole della rappresentante di giunta? A chiederselo sono oggi le organizzazioni sindacali, le stesse che sin dai tempi dell'ex assessore Nino Mantineo chiedono un'inversione di tendenza nella gestione dei servizi sociali. La segretaria dell'Orsa, Francesca Fusco, ritiene che sia giunto il momento di individuare un percorso che miri contemporaneamente a superare le carenze strutturali e a tutelare gli enziani. Preoccupazione viene espressa anche dalla CIS, le segretari, Calogio Emanuele e Bruno Zecchetto, non esitano a dire che tra chi governa oggi, il Palazzo Zanc e chi c'era prima, non è cambiato proprio nulla.